Però una cosa che mi preoccupa è il fatto che PlayStation non abbia concorrenza Ce l'ha la concorrenza, la concorrenza ce l'ha comunque In futuro dico, se dovesse uscire dal mercato console Xbox Ah ma sì vabbè Ecco, già ora fa quello che vuole La concorrenza c'è comunque, la concorrenza te la fai anche con te stesso Perché ora come ora ci sono anche più fonti di intrattenimento Quindi anche solo nell'ambito videoludico tu devi fare i conti con tante altre fonti di intrattenimento Non è più solo videogiochi contro videogiochi Una cosa è che io vado al negozio e posso comprare PlayStation e Xbox Xbox in due versioni, una che costa meno, l'altra che costa un po' di più e poi c'è pure PlayStation Una cosa è che io vado al negozio e l'unica console che posso acquistare è PlayStation Lì fanno i prezzi che vogliono Quindi è diverso, secondo me sempre la concorrenza fa bene Dici perché non parli di Nintendo? Perché Nintendo poi lo gioca per i fatti suoi Non lo puoi sapere oggi o domani, Nintendo è sempre una concorrente, lascia stare È una concorrente ma non come console da casa classica Sì va bene Per che poi ti fa girare i giochi nuovi Cioè Nintendo ha un altro suono Infatti è tutta altra cosa, infatti in Giappone si comprerebbero 7 Switch piuttosto che comprare una PlayStation 5 Ma di che parliamo? Alla fine sempre videogiochi sono Ma in Giappone è un mercato diverso In Giappone è un mercato diverso, siamo d'accordo Però intanto è monopolizzato da Nintendo e Sony ci deve entrare in punta di piedi ed è casa sua Ma questo perché Sony non ha titoli appetibili per il mercato giapponese Quindi che ho detto? Che se fa concorrenza da sola Vabbè, comunque stiamo dicendo due cose diverse No, non stiamo dicendo due cose diverse Non puoi considerare Nintendo come non concorrenza No, io non la considero come non concorrenza in senso assoluto Però per quanto riguarda la concezione di classica console da casa Che ti fa girare gli ultimi giochi di nuova generazione Nintendo ha scelto intelligentemente di rimanere una generazione indietro Dal punto di vista tecnico E questa la rende una console a parte Però poi dovendo fare i conti Tu parli di fonte di intrattenimento a base di videogiochi La gente cosa preferisce in Giappone? Switch E poi PlayStation 5 Quindi comunque Sony, indipendentemente dal fatto che sia la classica console da casa Sa che quando si parla di videogiochi In Giappone si parla di Nintendo Switch Ma perché prendi esempio giapponese? E come? Perché devo prendere... Sto parlando dell'esempio del resto del mondo Sì, vabbè, perché nel resto del mondo Tanti non preferiscono Switch, tanti non hanno Switch Certo che ce l'hanno E il discorso è che adesso sì In questo periodo storico le console devono fare i conti anche con i PC Assolutamente, adesso sì Certo, ovvio Quindi la concorrenza c'è, ci sarà sempre Il punto è che semmai non ci sarà direttamente quella di Microsoft Secondo me quella di Microsoft non è una concorrenza da poco Grazie Davidone998 Grazie Davidone, grazie A livello di mantenere certi prezzi e certe cose Cioè tante scelte sono state fatte in virtù della concorrenza Xbox l'ha fatta in virtù di PlayStation e PlayStation in virtù di Xbox E questa cosa non funzionerà più così perché se viene a mancare uno dei concorrenti Funzionerà di meno, certamente Ovviamente Nintendo, ma perché Nintendo fa un'altra cosa? Comunque cambierà proprio il modo di concepire la... Chiamiamola console war, la guerra tra aziende di videogiochi Cambierà proprio il modo di concepirla, eh Anche perché Nintendo per adesso con Switch sta facendo così Già ragazzi con Switch 2 non lo sappiamo, non lo possiamo sapere Nintendo da una generazione all'altra va dalle stelle alle stalle certe volte, eh Non scordiamoci, Wii sembrava che potesse stampare pure soldi Wii U un cesso Switch bene, Switch 2 magari va benino, ma benino basterà Il fatto, sai cos'è che salva Nintendo? Che siccome ti fa quella console che stampa i soldi Eh, quindi si può permettere un fallimento Sì, ma non se lo può permettere in realtà Se lo permette, se l'è permesso più volte nella sua storia L'ha proprio deciso, l'ha voluto fare Ovviamente non l'ha deciso, che momento è? Non si può permettere di fallire un cazzo Nessuno si può permettere di fallire niente Si può permettere un fallimento, ma chiaramente non vuol dire che lo vuole fare Gli succede a Nintendo di sbagliare Recupera con la cosa dopo Però adesso la differenza è che gli azionisti Stanno col fiato sul collo Quindi se sbagli anche una volta Le azioni crollano e sei fottuto E in passato no In passato sì, ma non era così immediata La cosa non era così proprio col fiato sul collo Il discorso è questo Nintendo non vuole più fallire Non vuole più ripetere gli episodi con leggerezza Affrontati agli anni scorsi Ma certo, ma grazie, ovvio È una Nintendo diversa quella di adesso È una Nintendo completamente diversa Che si è aperta pure agli eroghe Che prima invece erano super censurati Ora li censura Sony Nintendo vuole rompere tutto Nintendo non censura Però al di là di questo Non c'entra questo discorso No, fallire con la prossima console Questo intendo Non fallire in generale Ragazzi per fallire Anche quando parliamo di Ubisoft Ubisoft non è che piglia e fallisce Parliamo di fallire con la prossima console Ecco, Nintendo non se lo vuole più permettere Di fare un nuovo Wii U Un nuovo Virtual Boy Ma neanche un nuovo GameCube Sono cambiati anche i tempi Sono cambiati anche i tempi In cui facevi la console innovativa e particolare Adesso hai capito bene il pubblico che cosa vuole Questo è vero Cioè hai identificato i gusti del pubblico Hai già inventato tutto Hai già fatto la console che ha sia il motion control Sia la possibilità di giocare in portatilità Sia va nel trend degli handled È la console perfetta Perché con Switch 2 devono inventarsi invece gli hologrammi Che fallirebbero subito Assolutamente È chiaro che vanno a inseguire la cosa che funziona Grazie Solid Creek Ma proprio perché non vuole fallire Ma non voleva fallire manco con Wii U A modo loro Wii U era un'evoluzione di Wii Sì Ma hanno sbagliato il console Però hanno sbagliato in maniera troppo leggera Eh sì, lo so Troppo leggera Cioè hanno sbagliato in una maniera proprio da bene Hanno sbagliato proprio con una da benaggine Incredibile Perché anche il più stupido dei comunicatori Gli avrebbe detto Oh, non funziona così Non stiamo comunicando bene la console Non stiamo comunicando un cazzo Niente Falliremo sicuramente No, no, facciamola Capisci? Queste cose qua non esistono più Nintendo non lo fa più Questo non lo fa più Però Anche perché a tenere in piedi Wii U C'era anche una console contemporanea a Wii U Ovvero il 3DS Certo Però è una cosa diversa Se vuoi replicare il successo di Switch Secondo me con Switch 2 No, beh, non lo replichi Non lo replichi Non lo replichi a 100% Proprio perché è troppo simile Esatto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti